famiglia per sempre cerbero io sto qua dove state sto qua non so dove entrare non so dove parcheggiare dove state sto qua sto alla via che mi avete indicato sul navigatore e ho l'indirizzo ok c'è un attimo venghi 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 la stiamo aspettando dove devo parcheggiare un attimo siamo a posto così perché un po meglio no 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 quindi sto bene ora sto bene ora perciò non mi sono messo così appunto per non andare contromano non voglio andare contromano non ci vado contromano ecco qua mi giro così così non vado contromano capito ecco qua ecco qua magari almeno durante la sigla e per entrare oscura sì 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 la famiglia ma che stai a fa ricordate che squali sta di arrivare famiglia e benvenuti in questa nuova trasmissione ecco chi oddio stiamo a parlare anzi chi abbiamo in studio per l'iccardo rosario eccolo qua prego salve 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 è tutto pronto senti senti è tutto pronto ti sento l'iccardo ti sento lo senti c'è lui lo senti in realtà è tutto pronto ma non è pronto un caldo allora c'è rubino che sta cercando parcheggio intanto oggi accomodati sul divano accomodati pure sul divano questa sera ragazzi manca davide perché al turno di riposo il turno di riposo ed è stato rimpiazzato da devin già un rubino che è qui fuori che tra poco arriverà e ospite l'iccardo rosario direi proprio una live devo dire che abbiamo diversi argomenti in serbo alcuni in italiano speriamo che sia in italiano e non in serbo se no non ci capiamo un cazzo e anche robe di cui ci avete informato recentemente recentemente intendo un'ora fa io partirei subito con l'elefante nella stanza è già lucchino lei è impegnato a fare altro allora stiamo macinando un po' di pepe per condire però sono rimasto abbastanza stonnato perché raccontiamo un attimo che cosa è accaduto oggi oggi siamo entrati su twitch e abbiamo pensato oh ma l'iccardo sta ancora a roma perché comunque sarà beccato con rubino chissà se sta a roma abbiamo aperto la sua live e abbiamo visto che non c'era e quindi gli abbiamo scritto perché ci prendeva bene organizzare questa live e così è stato era disponibile già oggi rosario quindi no tu allora come sei arrivato qui nel senso tu qualche ora fa non eri a Roma vuoi spiegare un attimo l'antefatto di come è nata questa live intanto che arriva pure Rubino che sta cercando parcheggio mi raccomando microfono proprio attaccato come se fosse proprio cappella se lo smutiamo magari a me io ho un format dove la chat sceglie tutto quindi in pratica mi hanno detto vai a Roma ok non so dove guardare qui lì in camera ok lì ok quindi mi è stato detto vai a Roma ed io sono andato a Roma mi sono munito di miglietto alla mano per il treno e siamo andati tutti quanti a Roma live perché sono in Maratona da un bel po' e c'è stata questa cosa dove in pratica c'era Rubino lì episodio di Rubino ma tu sapevi che c'era lì Rubino oppure sei passato lì a caso? sono passato lì a caso e tutti quanti mi hanno scritto cioè tu stavi passando di lì per caso sono andato a Roma perché tutti quanti mi hanno detto vai a Roma oggi cioè la live è salvata ok sono andato a Roma e tutti quanti poi hanno iniziato a dire vada sta Rubino in un certo posto una pedineria che non voglio nominare sì ed io lì ho detto vabbè andiamo a farci la sorpresa ah ok giuro giuro vabbè non l'ha presa bene però tanto a Roma insomma è rivenuto casualmente di questo ne parliamo ora che arriva Rubino però se vedi anche in chat ci sono cioè la gente quando abbiamo annunciato che tu saresti venuto qua io non posso ignorare comunque la reazione del nostro pubblico certo sei avvelenata non tutti ovviamente però c'è un po' questa cosa che non ti vogliono addirittura qualche giorno fa hanno fatto un sondaggio nel nostro gruppo Facebook che è questo qui facci vedere facci vedere sareste contenti contesti vabbè vorreste Riccardo ospita e Boscar e ha vinto il no non vorrei Riccardo e Boscar con 378 lo sai chi sono lo sai chi sono visto che non verrai ai Boscar abbiamo abbiamo pensato di ci sta ci sta è giusto allora questi in pratica sono quanti voti sono? due? trecento? trecento ma soprattutto di Tommaso Pretolani esatto allora trecento trecento 178 contro 204 ok io so i nomi posso dirvi nomi di uno per uno perché ci sono un gruppetto purtroppo di persone che io non gli ho fatto nulla di male ma qualsiasi cosa io faccio nella mia vita e io c'ho potete vedere su youtube ovunque dove proprio fanno incitazioni di gruppo a qualsiasi mia cosa no 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 quindi Riccardo e Boscar no Riccardo su web no qualsiasi cosa ma sono proprio un gruppetto organizzato ma sono persone che si sono sentite scammate ma da cosa da due anni fa da una persona di due anni fa che non esiste più no in generale da no da te come essere umano ma devi diccare Rubino oddio mamma mia guarda che colore acceso mamma mia c'è un problema con il parcheggio come stai a Torbella Monaca è molto difficile Riccardo ci ha portato gli scontrini comunque non ha fatto il napoletano ma io sono una persona serissima io sono una persona serissima non so voi però no no giustamente comunque essendo stata una richiesta improvvisata gli abbiamo detto di rimborsiamo tranquillamente la benza come si fa tra adulti Rubino allora primo argomento perché poi ce ne sta un altro diciamo di altra entità di cui ci avete parlato voi e arriverà quell'argomento là che volete insomma avete capito Riccardo ci stava raccontando come mai si trovava a Roma esatto che era una scommessa con la sua chat e là mi è partita della domanda spontanea ma è beccato Rubino per caso oppure sapevi che stava lì no è beccato per caso sarebbe una cazzata è beccato per caso che girava per Roma no giravo per caso no non ho detto per caso giravo per Roma mi hanno detto guarda c'è Rubinoni voglio fare una sorpresa io te l'ho fatta io non sapevo che tu stavi lì io stavo in live sì 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 no ma lo so che stavi in live eh però comunque non l'hai presa bene no perché hai avuto quella reazione tu allora io stavo nel chill più totale già non esco mai sono nel chill più totale nel momento in cui tu vieni io ho già detto pure a me tu vieni fai la cosa termendicante vabbè fa pure mezzo ride c'è sta la chat sceglie tutto non ti voglio interrompere scusa avvicinati se la chat dice dammi un cazzotto che fai mi dai un cazzotto no ma nel limite ovviamente nel limite mi dai un cazzotto te chiudo poi non mi chiudi già me l'hai detto prima già allora tu già non mi sei piaciuto Davide perché tu già da come ti sei avvicinato a come ti sei posto ma che cazzo dici ti spiego ti spiego se posso io mi sono avvicinato in maniera scherzosa e tu già ti sei tutto alterato inalberato quando io invece non ho detto niente di male scherzosa di cosa io sto nel cil mio più totale ma io mi hanno fatto una sorpresa sei un personaggio del web scusami ti ho fatto una sorpresa che cazzo di ti ho accettato tutto tu mi hai fatto 860 live quando io stavo in mattina per cavoli miei quando era all'inizio che facevo mi hai chiamato notte e giorno per fare gli spettatori ma che cazzo mi serve te che cazzo sta di chiamo a te per fare gli spettatori due anni fa ma che cazzo sta di che ti chiamavo per fare gli spettatori ma tu sei proprio matto tu parco di scelta sei proprio matto fratello tu sei matto fragile chiamo a te per fare gli spettatori ma è la verità mi chiamavi sempre e noi ci sentivamo ma anche in amicizia ma che cazzo dici però il capo a me mi sembra stanno cerubbino non mi chiamare la notte ne manca a me la notte mi chiamava spesso e mi scriveva spesso e ci sentivamo spesso quantifichiamo quantifichiamo tu sei venuto non ti cazzate che fratello mi altero veramente tu sei venuto tu sei venuto là facendo la cosa dimenticante e tutto io stavo tranquillo nel momento stavo tranquillo l'ho detto nel momento in cui io te sto a parlare seriamente e tu mi pi per culo davanti a tutti io non ti sta a pigare per culo te lo dicevo scusa fratello a me non le fa queste cose ma è che io non le voglio fare queste cose mi hanno fatto uno scherzo no non è uno scherzo il problema secondo me sta proprio qui se ne è parlato molto del Rosario Liccardo lo stava prendendo per il culo no Rubino perché ci sta chi pensa Rubino per malosone perché si è arrabbiato che Liccardo è andato però c'è pure chi pensa Riccardo Rosario lo stava prendendo in giro e lui giustamente si è arrabbiato perché stava fuori casa io ti dico una cosa ci sono questi due pensieri io voglio capire qual è la verità io ti sto parlando seriamente del lavoro del lavoro che svolgo e come lo faccio tu mi fai ah sei un grande posso essere che mi hai detto posso essere posso essere posso essere posso essere come te mi vuoi invitare mi è una presa per culo mi è una presa per culo mi è una presa per culo ma te che sto parlando tutti allora abbiamo abbiamo proprio qui il minutaggio giusto posso essere invitato anche io da Grimbo ed è questa la cosa che ti ho visto da fatti in nervosino perché sembra un po' una presa per il culo è uno scherzo non è che io sto scherzando io ti sto parlando ma io sto in live visto che tu scherzi tu questa cosa scherzando la dici sempre le tue live tu pensi che le tue live non mi arrivano non mi arrivano sempre tu sempre ogni volta però spieghiamo che è che lui che dice eh no ma perché Rubino fai spettatori perché va dall'altri non lo dici mai ti spiego posso parlare ti spiego se vuoi ok allora io ho sempre detto questa cosa ma in maniera diversa e differente e te l'ho anche detto di persona quando ci siamo visti Rubì da quando sei andato hai iniziato a collaborare con Gribbo che non conosco un bravissimo ragazzo lo rispetto lo stimo per amore di Dio non ti ho visto più quel ragazzo di prima che prima ci sentivamo ci chiamavamo stavamo sempre comunque a fare live spesso e volentieri insieme come hai fatto un tot numero di spettatori approcciandoti a una collaborazione con Grimm che io ti auguro 2000 spettatori sia chiaro non ti ho visto più come prima infatti ti ho chiamato non mi rispondevi ti scrivevo mi salizzavo non mi rispondevi prima a secondi ma tu quanti allora voi ti dico la verità tu quante cazzate hai fatto nella tua vita ma che c'è perché tu quante ne hai fatte io non ho fatto ancora di più ma non come te ma non come me no non come te va bene non c'è problema io prima io quando ti ho conosciuto sì parliamo di due anni fa io quando ti ho conosciuto ok pensavo che facevi determinate cose tanto che pensando che parlando anche tu ricordi con Gianluca con Gianluca ho detto c'è sto ragazzo che fa il social media e io dico vabbè è un bravo ragazzo ci parlo infatti ho sempre specificato Riccardo non mi ha mai fatto nulla di male a me ok però dopo tutto quello che è uscito cosa devo pensare cosa devi pensare però dopo tutto quello che è uscito tu mi hai continuato a chiamare a scrivere a fare live con me a collaborare con me come mai a collaborare di cosa a fare live insieme a collaborare insieme per far parlare di quello che è successo allora lì ero buono lo potevi fare ma che buono frate per far capire quello che era successo io ho fatto degli sbagli in passato ho chiesto scusate sì ma se non c'era il cerbero tu continuavi a sbagliare su sta cosa ok ma io non avevo nulla non avevo nulla mi stavo facendo qualcosa stavo tentando ma qualcosa con cosa stavo tentando di fare qualsiasi cosa per andare avanti lavorare fare qualsiasi cosa quando tu dici che non interessa niente che fai tutto tu sì ma provare non vuol dire fare delle cose a altra gente perché tu ti qualificavi e te lo ripeto come social media manager ok il social media manager fa determinate cose e non dici che eh ma io ho offerto un servizio a mio tempo io c'ero il servizio deve essere naturalmente utile per l'altra persona capito che te lo voglio dire aspetta un attimo secondo me questo discorso è anche collegato al sondaggio di prima nel senso che molta gente diciamo dice io non dimentico per me Rosario Riccardo sarà questo e questo e quindi non lo voglio più però ti dico un'altra cosa però aspetta c'è sempre detto perché non gli date una seconda possibilità esatto ci sono due fazioni adesso sembra adesso sembra comunque comportarsi bene ma infatti io ho detto infatti ho detto anche un'altra cosa pure in live da me ho detto però le persone le persone merita una seconda possibilità quindi se attualmente Rosario fa delle cose non fa male a nessuno fa le sue live bene per lui questo è il discorso serio nel momento in cui tu ogni volta a me eh no perché Rubino perché fa questo fa questo i spettatori fa questo fa questi i spettatori Rubino non è cabilei ma dice che lavora tanto guarda che io le cose me le guardo io finite le mie live mi guardo tutto quello che succede e te lo contestualizzo ma che me contestualizzi e poi me le vieni a dire pure in faccia a me mi ferro del culo e non te vedo più come prima allora io ti ho sempre detto io ti ho sempre detto tutte queste cose e te le ho detto pure in live e te lo dico pure qui ma non con cattivera perché io ti auguro 10.000 spettatori e tutti i mila di questo mondo ma non è solo un fatto di spettatori a me erro del culo che non viene mai riconosciuto il mio lavoro che mi erro del culo che la gente compreso te dice no vabbè però quello va da quello quello va da quello porco due no te lo dico porco due se tu vai in 200.000 canali e non sai fare un cazzo la gente da te non ci viene punto è così puoi essere pure Gesù Cris e questo ci sta prima di Grimbaud ma prima di Grimbaud tu stai facendo quando sono andato al Cerbero già avevo 500 spettatori ma che dici che tu facevi l'aria con me e facevi 500 spettatori fermate quando sono venuto io la prima volta quando io sono venuto la prima volta da voi che poi c'era stata la cosa di Ingrado io già facevo i spettatori te lo ricordi certo che io già ne facevo 500 era già un po' di idea era già un po' conosciuto ma non faceva 500 spettatori mi facevo frate ma non è vero 500 sì li facevo 500 se mi dici non ne faceva 2000 li facevo 500 già quando sono andato da loro mi ricordo io facevi una media di 300 spettatori ma di che stavano pure 700 ma li facevo già sai quando facevamo 700 spettatori te lo dico io che io ti dissi mi ricordo sta frase insieme l'avete fatti io lui e Alessandro ti giuro io lui e Alessandro lo social media manager Rigio facemmo la live tu e Rigio sul suo canale e facemmo 700 spettatori ma quello è il suo canale io parlavo del mio e sul tuo idem facevamo c'è posta quel tuo format tipo e insieme facemmo 500 600 spettatori ma quello era ancora prima quello era ancora prima io quando sei entrato di quello ti sto parlando no io quando sei entrato al Cerbero come tu dici sta cosa io già rifacevo no non c'era Limba io già rifacevo sai e da Green io da Green sono entrato in contatto in contatto quando faceva perché le prime interviste a Green sono state mille del Cerbero ci aveva mille spettatori poi ci siamo trovati bene insieme abbiamo iniziato tutta sta cosa invece altri da Green sono venuti dopo tu hai iniziato a collaborare con Green quando allora non aveva fatto allora ti dico un'altra cosa a me non me ne frega ti dico come funziona a me Rubino se tu non mi chiami per me è uguale a me non me ne frega un cazzo ok se io vado in determinati canali perché mi chiamano io non mi imbuco perché non mi interessa mi vergogno dopo 5-6 anni che conosco Simone o Gianluca anche da chi ha di fare un video insieme per come so io questo sono io punto e basta so così ma ci sta ti fa onore però non devi a me mi fai rosicare scusa se ti rosica perché vuol dire che c'è qualcosa che non fa perché mi rompi il cazzo da 6-6-7 live così hai rotto il cazzo ma non è vero che te l'ho detto tre volte in vita mia poi non ti ho più nominato a parte che io voglio vedere un po' oltre con questa frase non è che ti brucia è perso ottolinea che per te lui è così no allora io a David lo conosco da prima di tutti c'è c'è un'accusa c'è un modo di pensare da parte tua che può essere anche lecito per carità di Dio però insomma Rubino io secondo me lo vedo adirato per altro più per un accumulo non ti sei sentito un po' ma sì basta è Sotemire a Maggi non è che ti sei rotto il cazzo ma in generale o da parte sua io penso sia più una cosa generale no allora a parte una cosa generale non è per lui che mi ha detto questo cioè Riccardo per me può di qualsiasi cosa a me non interessa però una cosa generale che porco due sto tutti i giorni a lavorare voglio realizzarmi in quello che faccio è solamente almeno un merito cazzo me lo riconosci uno non è che dico cioè non è apposta mi dà fastidio la cosa che può essere un meme come te parlavo oggi apposta mi dà fastidio la cosa e fa ride ricordiamo comunque che Rubino le reaction le fa a modo suo sì a modo mio quelle cazzate là va bene sì a modo mio apposta a me mi dà fastidio mi ha dato fastidio ai tempi la cosa è il non ingrato ma no perché a te devo far ride perché è meme però se c'è qualcosa di più profondo per me è normale che mi dà fastidio come miracolato può far ride però magari io ci vedo qualcosa in più a me poi è normale arresto da gente far ride perché vive come un meme e parlando nel caso specifico vedi da parte sua un punzecchiarti no una volta se me lo diceva una volta gli dicevo un cazzo è che voglio capire capito però una volta due volte tre volte quattro volte come poi cioè veni da me e poi ricevi la cosa capito siamo amici come puoi c'è capito e ti voglio dire e poi io ti sto a parlare una cosa seria e mi dice mi vuoi entra pure a me a green e lì mi ha dato fastidio perché io sto a parlare seriamente e poi quando si gioca si gioca per me io so così non ci posso fare niente quando finito me lo dici io ti rispondo prego prego grazie allora quello che io ti ho sempre detto e ti dicevo non è un'accusa nei tuoi confronti non è voler essere un'offesa io sono una persona che parla chiaro parla sincero a me attualmente ok io non ho niente contro di te ti auguro tutto il bene di questo mondo ma è fattuale per il mio pensiero per come ti sei comportato quando mi chiedono ma David io lo conosco da un bel po' di anni ci siamo sempre stimati c'è sempre stato un rapporto tranquillo amichevole da quando è fattuale ed è verità per me e infatti quando è successa quella cosa da quando sei andato da green che hai fatto non rispetto non è più pensato no no sai quanto quando il rapporto è rimasto al buio quando quando è successa tutta quella cosa col cerbero che io scusa tu mi chiamavi David mi chiamavi che stavamo insieme ma mi hai chiamato pure tu e parlavi con Simone aspetta di che tempo si sta parlando io lo conoscevo sì io lo conoscevo da prima si parla delle live storiche io lo conoscevo da prima ma infatti io ho sempre detto a me Liccardo ma mi hai fatto nulla di male a me però io quando è successa tutta quella cosa posso dire sono rimasto deluso sono rimasto deluso ma pure io sono rimasto deluso di me stesso e ci sto scusa di tutto quello che ho fatto ma infatti io dico le persone cambiano migliorano vanno avanti io così ci sto facendo così sto provando se le persone cambiano qua dobbiamo parlare di un altro macro argomento aspetta un attimo Gianluca perché mi sembra nei commenti delle persone che si sono lamentate oggi c'è anche questo qua sempre di Tommaso Pretolani io è Tommaso Pretolani è un nostro fan molto attivo fanboy di Marra da condannare un truffatore all'invitarlo in studio lo stesso giorno dove è stato annunciato che ha truffato è un attimo complimenti Cerbero Podcast per fare ste buffonate lui ce l'ha con noi più che con te e non venitemi a parlare di retenzione perché dopo un reato l'unica retenzione è quella giuridica che buffonata porco Dio e io ho detto ma che cazzo sta a dire quale truffa di cosa sta parlando questa persona però queste sono accuse molto pesate molto pesate io ero completamente all'oscuro però sarei disonesto intellettualmente se non dicessi che sono stato informato di delle cose ok durante l'ultima ora cioè ti giuro un'ora fa mi hanno informato di cose se ora ti chiedessi il tuo rapporto aspetta che il tuo rapporto con questa pagina qui no aspetta con slingshot come cazzo si chiamano eh quelli lì mi hanno contattato per fare una collaborazione mi spieghi un po' come è andata mi hanno scritto un'email ciao lì in casa siamo interessati a fare una collaborazione con te va bene questo è il mio canale piacere piacere ok cosa volete che faccia fai questo fai questo dici questo dici questo va bene ok grazie questo ho fatto fine ho fatto tutto ciò che mi avevano detto se gli hanno detto loro queste cose assolutamente ho l'email scritte se non fosse che poi la stessa azienda sai perché hanno fatto questo con questa storia siamo stati boni siamo stati truffati ok io sai che li potrei tranquillamente fare per un'azione del genere potrei fare un'azione del genere legale immagino perché questa è una cosa detta molto grave hai scritte del manager tu in teoria hai smesso in modo diciamo misterioso di collaborare con loro cioè da un giorno all'altro hai smesso e poi c'è stato anche l'episodio di una ragazza che ti ha chiesto questa cosa in live e tu non le hai risposto hai preferito parlare in privato con lei e questo ha insospettito molte persone quindi se vuoi se vogliamo chiarifichare chiarifichare ho preferito non menzionare loro sai perché io ho questi screen in privato io ho ricevuto molto male nella mia vita ok ho sbagliato in passato perché ho detto delle bugie prima di dare ho detto delle bugie però ho cercato sempre di fare del bene nella mia vita io nella mia vita non ho mai preso una caramella che non era mia non fosse mia sono sempre stato abituato così ok però c'è stato un periodo della mia vita dove ho detto delle bugie per cercare di andare avanti creare qualcosa ho cercato di fare del mio meglio ok a tutti verso tutte le persone che mi seguivano mi conoscevano e ho chiesto scuse perché ho detto tante bugie determinate cose ma perché dovresti denunciare slingshot se ha scritto siamo stati truffati io non li denuncerò proprio perché ho ricevuto tanto male nella mia vita nonostante questo però aspetta però questa cosa può passare molto male perché di solito mi hanno scritto in privato ho lo screen dove perché sono un gruppetto di persone che mi odiano in una maniera incredibile ma chi? ma questi slingshot? no ci sono un gruppetto di persone che si sono riunite e mi odiano in una maniera surreale Simo c'ho gli screen dove sono qualche decina di persone che fanno qualsiasi azione contro me queste persone io gli ho fatto questa gente gli ho fatto una sponsor tramite il manager che mi ha contattato subito hanno visto questa cosa sono andati subito a puntare a contattare questa persona dicendo le cose più false quindi questa persona cosa ha fatto? di ogni genere cioè io c'ho gli screen dove appunto mi diceva ma questa storia è dedicata a Rosario Riccardo sapete chi è sapete che ha fatto io non l'ho fatto io non l'ho fatto due anni fa e questo ha detto appunto dalla pagina loro c'ho gli screen che te li faccio vedere sì 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 infatti per questo questa storia è dedicata a loro a Riccardo sì infatti giuro io infatti sconvolto ho detto ma come è possibile? colgo la palla al balzo perché dato che l'hai detto tu l'hai tirato fuori tu questo screen no ce l'ho pure io questo screen mi è stato mandato in forma anonima esatto esatto che una persona scrive appunto è riferito a Rosario Riccardo quella storia che siamo stati fatti yes perché avrebbero dovuto scrivere sì non lo so se vuoi ti faccio vedere le mail però è abbastanza donami Rosario questo mi sembra abbastanza evidente io ho capito sta storia di questo gruppetto che ti sta prendendo di mira ce l'ha detto pure prima su facebook poi non so se sia lo stesso però non ho capito come fa gente che ti porta hating a manomettere una collaborazione che tu hai in maniera diretta con un'azienda e poi porta loro a sentirsi truffati da te non me l'ha manomessa semplicemente mi hanno scritto ti spiego mi hanno scritto queste persone ciao saluto Riccardo sulla mia email lavorativa vorremmo fare una collaborazione con te ok te la riassumo va bene che cosa devo fare per voi che cosa vi devo dire guarda devi fare questo devi fare questo devi fare questo va bene ok l'ho fatto faccio chiudiamo il tutto ci salutiamo a posto grazie io ho fatto tutto quello che potevo al meglio del meglio io ho lasciato anche una recensione positiva come loro mi hanno detto ho fatto tutto quello che mi hanno detto a fine rapporto questi headers sono andati a scrivere a queste persone e queste persone hanno reagito così ma io ho fatto tutto ciò e ho l'email scritta però se tu però se tu ci sono sentiti truffati esatto ma io che ne so scusa come hai detto loro ma è grave ma tu dovresti il fatto che tu dici no io non querelerò mai è una cosa che in realtà porta e ti porta danni se domani fanno un'azienda fa una storia siamo stati truffati che è stato il cerbero sì ma io mi incazzerei ma pure io mi sono incazzato sembra che siano stati costretti a dire di sì sai perché non volevo fare alcuna azione perché appunto non era uscito il mio nome non era uscito il mio nome e cognome pubblicamente loro avevano fatto questa cosa l'avevano fatto sotto forse io quindi ho detto ok fin quando non esce il mio nome e cognome pubblicamente so solo io che è riferito a me questa cosa anche se ho fatto tutto ciò che mi hanno detto quando uscirà questa cosa prenderò poi le mie decisioni ora che è uscita questa cosa pubblicamente per questo poi con la ragazza che tra l'altro è una mia sub e vip del canale cioè quindi la conosco questa ragazza ha detto questa cosa ho detto tuteliamoli non importa Simo ma tutto quello che vi sto dicendo io ho prove ho email e screen ma che è successo quindi e quindi hanno detto io ho tutelato non lo so non lo so se ti arriva una marea di persone che ti scrivono questo è un truffatore questo è un truffatore magari questi sono sentiti così poi pure fa una cosa di marketing in operazione siamo stati truffati ma se fai siamo stati truffati e esce il mio nome io ti faccio un bucio di nulla con una capanna infatti mi ha asciuto il mio nome però ti immagini lui se non ha fatto niente e poi mi sentisse dato il truffatore perché c'ha la nomina del truffatore pubblicamente non hanno detto nulla è una cosa gravissima per un'azienda pubblicamente non hanno detto nulla ti trovo l'email è assurdo ma che scherziamo qua dobbiamo però allora qua stiamo dicendo stiamo ipotizzando che un'azienda si inventi quindi faccio una campagna di marketing inventandosi di essere stata truffata con questa azienda da l'iccardo questo è un possibile scenario di quelli che potrebbero essere e vi sembra verosimile prove tirassero fuori le prove ma che operazione confettata è scusate un'operazione merda però se lui adesso ha tutte le email dove l'azienda gli dice fai questo questo e quest'altro e lui ha fatto tutti i lavori secondo me sono cazzi o male perché comunque lui ha avuto il contatto diretto con l'azienda quindi è tutto comprovato se non è avvenuto nulla che sia richiamato come una truffa non so se non so se non so se le puoi far vedere è una tua scelta no fa vedere secondo me facciamoli leggere non faccio vedere nulla non le fa vedere dall'inizio fino alla fine il primo loro messaggio confutiamo fino alla fine sono 24 25 email perché io mi sono fatto spiegare ogni cosa ho detto salve questo così loro mi hanno contattato me io non ho inventato nulla il web sa questo è il mio canale questo faccio io questo porto io fine purtroppo sono da due anni flame che io mi sento chiamato su ogni cosa da qualsiasi pianeta per una persona brutta non voglio dire neanche quella parola ok perché in passato ho fatto degli sbagli dicendo delle bugie ma io ripeto lo sottolineo non ho alcun problema con nessuno non esiste perché io sono sempre stato una persona pulita sincera e brava è onesta è anche una cosa che ho fatto vedere a Simone Santoro inerente a quel personaggio molto noto che non faccio nome dove lui stesso anche in passato quando successe il caos mi disse bugie per farmi andare ancora più fango andosso e poi l'ho dimostrato Rosario però io ho letto una cosa qui non so se posso dire posso dire ciò che ho letto fammi vedere che cosa io ho fatto la sponsor loro mi hanno detto non so di cosa state parlando e fatemelo dire posso dirlo? vai dillo tu ok allora ragazzi faccio un breve riassunto mi contattano ciao Rosario guarda siamo interessati a fare una collaborazione con te ok io faccio ogni geva la riassumo io faccio tutto quello che mi dicono poi mi dicono ciao Rosario il video non ha generato alcun click mi dispiace il video non ha generato alcun click nessuna conversione ti chiederei se è possibile di cancellare la live e tutto grazie quindi il vostro rapporto è finito poiché nessuno ha cliccato sul link che tu hai fornito uno uno ha detto loro io non lo so ma uno non lo so a me c'erano 450 persone in live e siamo stati ripostati su youtube la gente non clicca io non lo posso sapere se tu fai una sponsor di ok ora qui però Rosario tu hai ci sono strumenti tu hai strumenti in quanto content creator per vedere quante persone cliccano sul link non lo so ma basta anche il coso di google infatti gli rispondo se permetti vabbè magari non lo so io non lo so ragazzi perché no 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 ma ci credo non lo sanno tutti ho metto il nome che non abbia generato alcun click io non posso saperlo testuali parole mia ok ho fatto tutto ciò come richiesto le sponsor hanno il suo tempo e sono a libera scelta ho avuto un'altissima media a spettatori perché poi annunciai un'altra tipologia di carriera quella sera ho eliminato la live come richiesto vi auguro il meglio e concludo comunque consigliarvi eccetera eccetera un saluto fine guarda non mi hanno risposto non mi hanno detto cosa hai letto però ho letto questo ho letto questo che ha letto questo che loro hanno detto non ha generato ma io che cavolo ne so vorremmo far passare che hai cancellato la live per tua iniziativa no ma c'ho la live si si c'è le prove se è vero frate allora tu naturalmente devi quando contatti un creator devi fare le tue valutazioni ok se gli accordi erano questi e poi è successo che magari può succedere la cosa non interessa o la gente non ha cliccato io che devo fare infatti poi è successa questa cosa del siamo stati truffati e ora io avendo avuto delle informazioni che mi hanno scritto in privato delle persone avendo no 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 aspetta avendo acquisito nuove informazioni io ve lo dico perché sono sempre onesto io cioè non me ne frega un cazzo io sono pronto a cambiare cioè nel senso con le nuove informazioni che ho acquisito con queste mail ha senso la versione di di rosario perché vanno totalmente a sfatare il 99% delle cose che mi sono state dette in privato grazie grazie Simu querela tutto tutti pure sti ragazzini sinceramente perché veramente regà è vero devo essere onesto è vero la tua versione se è vera è greve ti consiglio di tutelarti no 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 la cura di merda che ho fatto scusami no ma posso mai fare qualcosa di male nella vita su web ad oggi però aspetta qua andiamo a parare in un intimo e ci stanno cioè tu mi hai detto una cosa molto profonda a mio dire tu sai quello che è successo la storia bla 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 tu sai anche un'altra cosa aspetta tu sai anche un'altra cosa che loro hanno detto che tu hai fatto no io sono venuto a conoscenza me ne assumo le responsabilità tanto ormai qua eeeh voglio un più voglio un meno ovviamente io lo faccio solo per amore della verità e me ne assumo le responsabilità mi è stato detto che l'azienda ha detto che tu ti sei spacciato per un'altra persona ma nelle mail io ho letto Rosario Liccardo ergo mi è stata detta una cazzata io sapevo una cosa falsa tu eri Rosario Liccardo io sapevo una cosa che non era vera tutto il rischio è tipo il titolo del film ma tu eri l'orario Liccardo gli ho mandato tutto è tutto sui miei social è tutto sul mio profilo Instagram hanno per affidarsi delle cose che uno scrive in privato vedi a volte uno uno può può fare figure di ci sono le prove non fare mai nulla di male ma assolutamente ma se io sbaglio ti ho chiesto scusa io in passato ho detto delle bugie ho fatto le cazzate ho tentato di fare tutto il necessario imbossare le persone chiedere scuse ho fatto di tutto per uscire ma raga ma ci sto provando a fare del mio meglio ma avete visto che devo fare ma giuro su tutto il mondo che devo fare cioè non faccio niente di male vivo solo di cose tranquille pulite cerco di accontentare tutte le persone che mi seguono sul mio canale però vedi perché non l'hai detto cioè perché durante la live hai dovuto staccare quando la ragazza ho paura però così passi per sospetto sei sus sei sus se fai così non voglio fare del male ho paura ho l'ansia io ho fatto cose sono una persona ansiosa io ti giuro non lo sapevo no di questo mo che ne sapevo io mo venivo qua faceva la cassa la figura ok io mo non sapevo niente di questa storia che voi avevate per farti capire la più totale e sincera verità questo è il mio telefono tra parentesi lavorativo prendi tutte le mail prendi tutto quello che vuoi io non prendo un centesimo senza assolutamente ad oggi e così sarà per tutto il resto della mia vita senza senso senza che non mi venga donato con volontà senza che non faccia qualcosa appunto di lavorativo ma tutto onesto cioè non voglio assolutamente trasparente ricordiamo sta cosa perché la live non è partita con questo intento questa roba qua pensa è uscita fuori dopo che Simone se n'è andato da casa mia ed è uscita alle 7 sono sempre su un confetto di 50-60 persone noi ci siamo sentiti tipo ai 5-5 e mezza che era allora è stato proprio completamente a casa ho chiesto a queste persone che vogliono comunque mantenere l'anonimato se volessero nomi e cognomi di tutti perché io oramai ce li ho stampati perché era pre-live Rubino mi ricordo mi ricordo ho chiesto se volessero entrare su Discord anche in forma anonima però mi ha detto di no no non lo fanno e io di questa cosa mi sono molto incazzato voglio dire questo perché se tu devi dire a noi ci è arrivato questo no Riccardo Rosario ha truffato è un truffatore dico ok bisogna parlare di questa cosa in live perché è uscita fuori questa cosa poi da quello che abbiamo visto all'inizio live ci sta però perlomeno chi si mette queste parole in bocca quindi di dare a qualcuno del truffatore non dico che ci deve mettere la faccia ma almeno la voce su Discord neanche quello e quindi io un po' parto prevenuto infatti scusami ma se tu pensi di aver ragione che problema c'è a venire non lo fanno io sarei il primo se penso che c'ho ragione sarei il primo e vado diretto se devo analizzare la cosa io dal comportamento di Liccardo non ho visto uno che voleva nascondere qualcosa a me sembra sincero questa dalla mia sensazione stavo chiedendo a Simone quanti erano i follower di quell'azienda ma non è che è una prova se voi me l'aveste detto prima scusami Marco ti followerà quella azienda è una cosa veloce perché non contattate l'azienda mille mi dicevi un mille penso qualcosa non so però se tu me lo dicevi prima io già te lo dicevo Simone non ne parlare ti spiegavo tutto in privato credimi cioè perché io ho iniziato questa live con la consapevolezza di cose che mi sono state sfatate da te me lo dicevi capito? no no ho fatto chiarezza comunque sì 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 comunque serviva a far chiarezza ma più che altro erano i confronti del nostro pubblico pure durante la live io ho aperto Telegram e pure lì ho letto i stessi messaggi che stavano qua inizio live peraltro quello screen penso che venisse da Facebook dove io già avevo fatto un post dove chiedevo ma perché non volete lo sapevo Riccardo ma inizialmente era troll dunque io ho una proposta perché sapevo della cosa dei Boscar però ho detto perché non volete Rosario Riccardo e nella domanda facevo capire che stavi in studio alle 21 e da lì ci è partito il commento quello altre cose qua se metti su Youtube ma uno è anche costretto comunque a chiedere se metti su Youtube ci sono sotto a ogni mio video che mi ripostano sempre una ventina di nomi dove tutti quanti insieme che hanno fatto un gruppo queste cose qua si coalizzano per incitare odio qualsiasi mia cosa ora è stato ci sta sto meme non Rosario Riccardo è un Oscar tutti quanti insieme tutti quanti insieme ma è assurdo cosa che io non lo so neanche una strage avessi fatto cioè che da due anni e mezzo mi bersagliano punto e io invece no voglio andare sulla retta via sempre sarà così e non voglio far del male mi voglio solo difendere capito Gianlu se c'è qualcosa io mi difendo io ad oggi sono qui perché davvero vi reputo per me amici ti mi rispetto sto imparando tanto da voi voglio stare sul web sono felice quindi però vedi comunque il nostro pubblico non ti vuole ebosca questa è una cosa che è successa prima di tutta sta storia non ci vedo secondo me io ho un'idea tu potresti non lo so non lo so ho un'idea potresti fare un appello secondo me non a tutta la community ma prendere proprio Tommaso Pretolani come diciamo standardo della community del gruppo facebook cebro podcast e fare un appello proprio a lui guardando in camera per essere ammesso ai boss perché Rosario Liccardo si merita il posto ai boss se non ci convinci tu non ci potrà convincere nessuno prego in maniera seria o scherzosa come vuoi come preferisci ma anche un mix anche prima uno e poi l'altro come vuole può fare qualsiasi cosa si può alzare può ballare può cantare può piangere può fare tutto allora può trasformarsi appunto cerco di tenere un contesto come è successo con David prima mi sono approcciato in un modo scherzoso poi ho visto che comunque si era un po' dillo a Pretolani mi sono messo un po' in maniera seria a parlare con lui quindi ragazzi se io vi dovessi parlare in maniera seria io vi dico io so che avevi sbagliato in passato e mi dispiace gli dico scusa lo ripeto però adesso sono sulla retta via mi farebbe piacere stare su web mi farebbe piacere avere come amici e colleghi ok il cerbero David e altre persone che hanno la mia stima Ivan eccetera eccetera perché sono persone che mi hanno insegnato tanto ok perché nella vita si sbaglia e ci si può imparare questa è la versione seria poi per tutto il resto che cosa vi devo dire se vi devo dare la versione scherzosa va giù no Liccardo no party ma ragazzi se non vengo io ma dove c'è la famiglia ma tutto a posto basta è tutto pronto va potresti potresti spiegarvi nel dettaglio il concetto di famiglia cioè perché è una cosa gigantesima famiglia a carattere i cubitali ma che cos'è la famiglia per te per me è una una forma di affetto immensa è nata così perché per me appunto la famiglia è importante però non volevo dare la stessa definizione le cacciano da casa ogni due settimane io me ne vado in realtà non mi cacciano c'è la postazione machine ma sai perché perché comunque in passato ho subito tanto sanno che sono una brava persona lo dice ma perché continui perché fa però io sono testardo dico no ma io devo dimostrare a tutto il mondo a tutto il web che io so stare su questa piattaforma sul web in generale e che sono una brava persona quindi questo mi ha fatto sempre alzare e cercare di andare avanti e avevo un gruppo di persone che da sempre si sono affezionate a me e mi hanno dato fiducia loro appoggio ok tra cui alcuni nomi Jody, Chiara, Mimmo insomma alcune persone con grande affetto ok che io stimo saluto e voglio un gran bene a tutti quanti che rapporto hai con queste persone? sono persone che io sento ma ti dico ogni forse mezz'ora su Discord su Telegram sono persone che anche senti Jody ogni mezz'ora su Discord più o meno Whatsapp ok Whatsapp lui Jody che io Discord ma in maniera poi ovviamente quando si dorme dorme però dico sono persone che io mi sono affezionato molto e quindi con affetto sono persone che io darei è un'altra amica ah ok no non è quella Chiara che magari possono avere perché c'era una mia ex che si chiamava Chiara no Chiara Ferragni no Chiara Ferragni un saluto a Chiara Ferragni ciao Fedez ciao Chiara posso? certo ciao poi c'è la domanda comunque quindi con affetto chiamo famiglia perché sono persone che vogliono un gran bene capito? quindi mi sono molto affezionato ma invece con Gaia Clerici guarda i rapporti io non ho niente sei stato il cafone ho visto una clip dove tu dicevi tramite gesti che te la volevi scopare non è cafone non sono non sono assolutamente quel genere di persona però posso dire lei si era anche un po' offesa ma allora si offende solo con me Gaia allora intanto facciamo un po' l'inchat se il discorso di di Liccardo vi ha fatto cambiare idea sulla sua presenza e Boscar quindi Liccardo e Boscar si no sappiate che non avrà molto ma tu se esce no non viene verrà ascoltato se esce no non vengo se esce no non viene quindi non è che votate votate seriamente io mi oppongo lo porto a forza lo tiro fuori da grazie Marco assolutamente Marco che non è consapevole che in realtà non verrà perché ma io voglio domandare una cosa Rosà rispondo prima a Gaia vuoi che gli rispondo prima come ti pare prima Gaia poi ti ho chiesto io allora io non ho niente contro Gaia premetto è una bellissima ragazza scherzo non sono scherzo non sono contro determinate cose è una bellissima ragazza ma come ho già detto io a Milano ci fu il primo incontro con Gaia dove la vidi fuori da Mondatori e mi avvicina ai miei presentaggi già lì mi snobbo in una maniera incredibile io invece vicino a Gaia come vicino a tutti tutti gli streamer che ho potuto incontrare io vado vicino mi presento ciao piacere sono molto affettuoso abbraccio e quindi già lì ho visto che se ne scappavo ho detto vabbè forse mi do fastidio mi sono andato ho provato a legare in maniera amichevole perché non ho alcun secondo fine gli ero pure detto guarda Gaia non ho alcun secondo fine siamo su Twitch mi fa piacere conoscerti e stare tutti quanti insieme così vabbè ma lei non ti conosceva prima no no e allora dopo dei prissimi S1 che dice ma che cazzo vuole questo mi vuole succhiare qualcosa probabilmente mi conosceva immagino per eh vabbè comunque le live sono storiche immagino che tutti quanti però mi sono presentato e dall'inizio fare pure un po' che ci sta a provare no io dall'inizio fino alla fine ho provato a fargli una sorpresa anche da Omniatol mi stanno a scrivere tutti i microfono che è successo che è successo parla un po' microfono Simone Whatsapp grazie 200 euro grazie 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 una piotta così fresca fresca così posso continuare come dicevo in maniera riassuntiva lo dico io non ce l'ho con gas semplicemente ho notato ok come inerente al discorso di David ma non è un'offesa che stando con determinate persone di una soglia ok molto più alta rispetto a di media spettatore eccetera hanno un comportamento invece verso me e verso diciamo persone con media un po' più piccole ne hanno un altro ma questa è una cosa che io non c'è un'offesa qui è semplicemente un mio pensiero un mio discorso dove dicevo mi dispiace perché sappi che io che tu possa avere uno spettatore ho 10.000 io mi rapporto solo e sempre con te in maniera amichevole senza alcun secondo fine quindi ho notato sta cosa dall'inizio fino alla fine ti posso dire una cosa Rosario su quello che hai detto allora secondo me parlo sempre per me io non so così nel senso se tu fai 800 spettatori ne fai 50 ne fai 100 ne fai 20 io mi comporto sempre allo stesso modo io però non pensi che tu hai detto i miei video sono storici li conoscono tutti non pensi che la gente Gianmarco Saolini per i 5 sub grazie Gianmarco Saolini grande grande peradone non pensi che magari certa gente si comporta con te in determinato modo perché ha visto principalmente quei tuoi video quei tuoi video storici e non vuole avere niente a che fa ma infatti e non per la cosa dei spettatori che non c'entra niente su questo ma infatti su questo io ti rispondo infatti ho detto questa è una mia sensazione che magari può essere sbagliata e di questo ogni volta io ho detto e chiedo scusa qualora io in maniera scherzosa posso mai aver offeso qualsiasi persona a me dispiace che io devo essere associato a una persona di due anni fa che purtroppo che per fortuna chiedo scusa non c'è non c'è più attualmente quindi mi dispiace se è una Gaia grazie grazie per i 25 euro grazie mille Orsino grazie Orsino grazie Orsino intanto Rosario ti chiedo una cosa in chat stanno spammando Pretolani su Discord per te non c'è problema interagire con lui va bene ok facciamolo finire intanto facciamo entrare era per correttezza quindi come dicevo appunto ho notato questa piccola cosa perché spesso volentieri noto che comunque seguendo alcune live di Gaia esempio Gaia lei ha scherzato e scherza in maniera tranquilla con molte persone e comunque sub streamer eccetera ho notato che invece mezza cosa qualsiasi mezza cosa che io abbia detto come da social boom quando successe quel caos io non gli dissi e lei mi insultò ultimamente e lei che coglione quando si vedeva che era palese un video su TikTok scherzoso ho notato questa cosa quindi io da lì dico ok Gaia mi dispiando non vuoi avere rapporto con me chiedo scusa se in qualche modo ti ho ferito lo sappi che io non ho avuto mai alcun secondo fine verso te quella sensazione grazie davanzale grazie grazie per i 5 grazie per i 5 comunque hai visto comunque ho capito il discorso su Gaia per me possiamo pure chiudere hai visto ha vinto il sì quindi puoi venire hai c'è il bosco grazie 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 a tutti grazie 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 famiglia 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 ok abbiamo pretolanni su Discord però io ti vorrei dire una cosa Riccardo ci stanno quelli là che ti avevano scritto quelle cose che vorrebbero i tuoi dati ti vorrebbero querelare posso prego quereli sto cazzo devi querelare devi querelare sto cazzo devi querelare quereli sto cazzo quereli sto cazzo e basta scusate oh guarda versione napuletana non c'era la camicia gialla comunque stava lì prima intanto che aspettavo il ragazzo quella piccola azienda con mille follower magari il social media manager che è arrivato dopo ha visto tutte quelle live con due milioni di spettatori con lo stesso social media manager che c'era prima truffato truffatore e potrebbe aver pensato a studiare marketing è una cosa assurda molto furba ovviamente è assurda siamo stati truffati dovremmo sentire l'altra campana ma scusa Rosario mettiti in contatto privatamente con l'azienda dato che c'hai la mail e risolvi in privato senza creare polveroni e senza che magari ci arrivano le lettere pure a noi risolvi tempestivamente a noi a te da arrivare a me non so se è possibile mettere la famiglia densa la famiglia la famiglia densa la famiglia densa un po' di muccia qual è la famiglia densa la canzone pure a dieci secondi se è possibile si si assolutamente si aspetta grazie ma la metto io Marco tu concentrati sulla regia ma che cos'è la famiglia densa eccola eccola grazie grazie ma è questo best of famiglia densa famiglia densa ragazzi che canzone è il titolo ma non era quella la Rosario Riccardo trattino no quella è Riccardo trattino sbagliato voglio due dati da più a me i dati dovrebbe essere no no non è questa non è questa questa è swappi dite il titolo per piacere ragazzi dite il titolo diventa sempre il titolo comunque non è che stiamo rimandando cioè io Predolani ancora non lo vedo sarà un tetto mi spiego quello che è successo mi ha scritto Gabriele in chat il sergente e mi ha detto ci sta per Olani che vorrebbe fare un intervento su discord volete farlo entrare decidete voi ok entri e mo non si sta ma adesso non si fa vivo mi ha scritto e allora Predolà ma Predolà è basa ma questo è il grado di usare solo facebook proprio ma anche un discord si chiama Galsi Revolution Infection come si chiama Galsi Revolution Infection allora ora io farei un ballo però associato infatti è quello che voglio fare Infection Galsi Revolution Infection il mio inglese sapete che comunque è quello che è prego a lei Rosario la sentiamo tutta prego 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 è tipo X Factor no io sono X Factor io io sono il giudio no mi c'è 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 prego 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.